Buonasera, grazie di essere con noi, parliamo della seconda tappa della settimana Lombarda by Bergamasca, siamo in provincia di Brescia, a Calcinato. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera, grazie a tutti. Per me, per nostra squadra, noi bisognavamo vittorie, allora va bene, tutto bene, sono molto felice. La dedica? Ora per mia mamma, ultima volta per mio, moglie e figlio, ora per mia mamma. Michele Scarponi ti sei confermato leader di nuovo della Lombarda, però hai rischiato veramente tanto? Con il tempo in queste condizioni è stata un po' dura, il giro tolto un po' così a metà gara, sinceramente si è rischiato perché la fuga aveva sei minuti e con un giro in meno magari si rischiava di perdere la maglia. Però è andato tutto bene, diciamo che aveva tutta la maglia bene e quindi sono contento, domani è un altro giorno, speriamo che non piova perché comincia a stancare e niente.